Oh AC Milan Ciao a tutti ragazzi bentornati benvenuti Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo Meno male, meno male, meno male, meno male Due belle notizie Come ho detto questa mattina sul mio account Instagram Chi mi segue anche lì Due belle notizie oggi Allora la prima notizia è che Finalmente finisce il calciomercato ragazzi È stato un massacro È stato il peggior calciomercato Come esperienza vissuta Il peggior calciomercato come io personalmente Non lo vivevo da anni È stata veramente una cosa agghiacciante ragazzi Sono state settimane veramente agghiaccianti Ovviamente il tutto enfatizzato dal fatto che La Juve abbia comunque speso dei soldi L'Inter ha speso dei soldi E noi di fatto siamo rimasti praticamente Completamente fermi Allora vi devo parlare di tre giocatori Ragazzi vi parlo di Botman Vi parlo di Sanchez E vi parlo anche di Jonathan David 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 Non so come si pronunci Penso che si dica Jonathan David Vabbè O David Forse perché è canadese Quindi Jonathan David Vabbè Sapete che con i nomi raga Io non sono tanto ferrato Allora parleremo di questo E poi ho una bella parte Bella bella parte In cui facciamo Il pezzo di video per persone intelligenti Quindi andiamo a leggere le parole Del direttore di calcio e finanza In cui spiega bene esattamente Quella che è la situazione economica E finanziaria del Milan e dell'Inter Mi sembra che parli della Juve Comunque lo guardiamo insieme Perché è una cosa molto molto interessante L'altra cosa importante Bella di questa settimana È che inizia la settimana Inizia la settimana del derby ragazzi Quindi per chi mi segue tanto Da tanto su questo canale lo sa Per me il derby è la partita La partita più importante La partita che seguo Che sento di più in assoluto E speriamo bene ragazzi Speriamo bene Poi avremo modo insomma Tutta questa settimana poi Di parlarne Di parlarne Di parlare in modo approfondito Allora vi volevo dire Semplicemente questa notizia Riguardo al derby Prime notiziette del derby Poi andiamo in sigla Botman, Sanchez, David E poi vi devo parlare Facciamo tutto un bel discorso finale Riguardo a Mlollo I milanisti commercialisti official Rimanete con me Perché è importantissima Allora prima ragazzi Volevo dare questa notizia E nel derby Probabilmente giocherà Ibra La presenza di Bremic nel derby Non sembra più diventata Non è più in discussione Le sedute in palestra Permetteranno al tendine Di Ibra infiammato Di ritornare a posto Tomori potrebbe recuperare Per il derby Ma ritorno al discorso Che ho fatto l'altra volta Se devo rischiare Fica io Per farlo giocare nel derby Ragazzi Io capisco che il derby Di sabato Alle ore 18 È la partita più importante Come vi ho detto prima Più importante Degli ultimi anni Però ragazzi Se mi devo rischiare Fica io Per giocare nel derby E poi dopo Non averlo Magari per altri Due settimane Tre settimane Perché poi si fa male Ancora Preferisco a quel punto Giocarmi il derby Con quelli che ho E poi dopo ragazzi Poi vediamo cosa succede Invece dall'altra parte Abbiamo anche un Kessi Che oggi torna a Milanello Dopo avere Praticamente essere stato eliminato Dalla Coppa d'Africa E pare proprio Che alla fine L'Ivoriano Verrà utilizzato Come trequartista Nel derby Che tanto bene ha fatto Nell'ultima partita A Empoli Vediamo In caso contrario Se non dovesse Recuperare Ibra Non dovesse essere A disposizione Comunque avremo Giroud E basta Speriamo Almeno Fica io Speriamo di recuperarlo Per la panchina Bene ragazzi In fretta in fretta In pressa in presso Perché ho veramente Delle cose belle Da raccontarvi Non voglio più Portare via tempo Quindi vi chiedo La cortesia di lasciare Pollice su questo video Per il calciomercato Che finisce Raga basta 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 Calciomercato Non è stato un incubo Ragazzi Sto calciomercato Veramente è stato Un incubo Spero Spero che si chiuda Qua il discorso Calciomercato Chi c'è c'è Chi non c'è Non c'è Coco Pops È tutto per me Chi c'è Giochiamo con quelli E chi non c'è Fa niente Ci penseremo Ma quelli a cui ci penseremo Ci pensiamo adesso Dopo la sigla Perché parliamo di Sanchez Botman E David 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 Insomma quello lì Ci siamo capiti Pollice in su Quindi Pollice in su Iscrivati al canale Se non l'avete ancora fatto 1 2 3 Sigla Partiamo subito Dall'oro 3 Allora Innanzitutto Facciamo un attimo Un cappello a questa cosa Qualcuno di voi Mi ha detto Lollo però Non prendertela tanto Per questo calciomercato Perché è palese Che il Milan Abbia Risparmiato Tra virgolette In questo calciomercato Per poi andare a fare Degli investimenti grossi Nel calciomercato Che poi arriverà In estate Andando appunto a fare Probabilmente Così dicono i media Il triplo colpo Botman Sanchez E Jonathan David 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 Ok Va bene Io capisco questa cosa Che mi dite Però C'è una grossa variante Ragazzi In tutto questo Che Quest'anno Devi Per forza di cose Arrivare Nei primi 4 Lo so che è brutta Questa cosa che vi sto dicendo Però ragazzi È La nostra Il nostro percorso Non può prescindere Dal fatto di arrivare Tra i primi 4 E quando io vedo Che comunque Le altre squadre Che sono in corsa Con noi Per i primi 4 posti Che o chi in un modo O chi nell'altro Comunque si è rinforzato Inizio a avere Un po' di paura Quindi è giusto Pensare A quello che poi Succederà a giugno È giusto Tutto quello che volete Ma io guardo il campo Io lo dico sempre A me del calciomercato Non me ne può fregare De meno Io guardo il campo E vedo le altre squadre Intorno a me Che si sono Rinforzate Quindi inizio Ad avere Un po' di pauretta Un po' di cagetta Quando guardo questa cosa Speriamo ragazzi Speriamo Speriamo Comunque Triplo colpo Vi dicevo Botman, Sanchez E David Jonathan, David Allora Tutti i tre giocatori Sono tre giocatori Che arrivano da lì Sono tre giocatori importanti Ragazzi Botman L'abbiamo già detto Tante volte Un giocatore Che ci avrebbe fatto fare Il salto di qualità Tra l'altro Ribadisco ancora A quello che ho detto ieri Se dovevamo comprare Botman Lo compravamo Non oggi Ieri Lo compravamo Il primo di gennaio Cioè Comprarlo adesso Che senso ha Che tanto adesso Tra una settimana Dieci giorni Torna Tomori Quindi che senso ha Ragazzi Non ha assolutamente Nessun senso In questo momento Comprare il difensore centrale Sanchez invece Viene per fare Il nuovo Frank Chessy Che sarà un giocatore Che oramai ragazzi Da domani Oggi quanti ne abbiamo 31 Sì da domani ragazzi Da domani Chessy può firmare Con la sua nuova squadra Quindi non sarà più Un giocatore del Milan Finirà questi ultimi mesi Nel Milan E poi con molta probabilità Andrà via Non lo so ragazzi Io sto a quello che vedo Io vedo Comunque un giocatore Che in questo momento Non ha ancora firmato E ovviamente Se non ha ancora firmato Fino adesso Come già è stato fatto Per C'è la Nolu Già è stato fatto Per Donnarumma Penso proprio Che alla fine Non rinnoverà Tra l'altro Aperta parentesi Su questa cosa Qualcuno mi dice Vabbè ma Nolu Ma alla fine Chi se ne frega Che questi non hanno rinnovato Ragazzi No Perché Se questi giocatori Che vi ho nominato prima Avessero rinnovati E poi sarebbero stati venduti Capite che avremmo incassato Non so Con una cifra a caso 60-70 milioni E in un momento in cui Il Milan ha il bilancio Che ha 70 milioni Raga 70 milioni Facceva la differenza Cioè Andavamo a comprare Noi Vlaovic Se avevamo 70 milioni Incassati Da Donnarumma E Quello là Quello in bianchina Con il numero 10 Vabbè ragazzi Quindi Botman Assolutamente Sanchez viene a fare E invece riguarda L'ultima cosa Volevo dirvi riguardo A Jonathan David David Costo anche lui Circa intorno ai 40 milioni Quindi le tre operazioni Sono 30-40-30 Quindi stiamo parlando Di 100 milioni Di spesa Non lo so Mi sembra un po' improbabile Che il Milan spenda 100 milioni Nella prossima sessione Di mercato Ne abbiamo spesi 70 L'anno scorso Ma che il Milan spenda Ancora 70 milioni Di euro Non lo so Può darsi Me lo auguro Ragazzi Io sono qua a tifare Con voi per I trofei Sono qua per i trofei Ok Non lo so Vedremo Jonathan David Però non lo so Ragazzi Ho visto un po' Di immagini Quando anche quando L'ho visto giocare Non mi ha convinto Pienamente Però devo dire anche Che tanti altri giocatori Che ho visto Che non mi avevano convinto Tipo Ozyman Quando l'avevo visto Comunque non mi aveva convinto Pienamente Invece in realtà Un giocatore forte E' uguale anche Per Abraham Un altro giocatore Che quando l'ho visto Non mi aveva convinto Invece poi dopo Alla lunga Soprattutto nel campionato italiano Dove fisicamente Fai la differenza Vi diciamo Che poi dopo Non mi aveva convinto Bene Allora partiamo Ragazzi Adesso se avete Chi ha voglia Di ascoltarsi La parte intelligente Dei video Rimanga qua Perché adesso Arriva una parte fondamentale Allora parla Mondellini Luciano Mondellini Che è il direttore Di calcio e finanza E spiega Con dovizia Di particolari Tutte le differenze E affinità Tra Milan e l'Inter Tra Elliot e il Milan E Suning e l'Inter Allora iniziamo Con i rossoneri Dice Elliot è uno dei fondi Più importanti A livello mondiale L'obiettivo È quello Di massimizzare Il ritorno Da un investimento Quello fanno i fondi Fanno fanno quello Sono subentrati A Yongong Lee E hanno eseguito Subito Un'operazione Di pulizia Completa Cosa vuol dire Che i rossoneri Oggi hanno Zero euro Di debiti La politica È quella Di valorizzare I giovani E di non andare Oltre certi Ingaggi Nel medio termine Verranno Vorranno Vendere la società Questo dice lui Che nel medio termine Elliot vorrà Vendere la società E realizzare Quindi una plusvalenza Più o meno Sono già stati investiti Circa 800 milioni Di euro Da cui ne vanno detratti 130 perché sono già stati Rimborsati Quindi Chiederanno Probabilmente Per la cessione della società Così dice Mondellini Una cifra Intorno al milione Di euro Invece L'Inter Suning Ha comprato L'Inter Anni fa Tre anni fa Forse una roba del genere Investendo Anche più di 800 milioni Di euro Normale che chiedono Anche loro Una cifra Intorno al miliardo Ma attenzione Oggi la società Inter È una società Piena di debiti Un ulteriore problema Arriva con gli interessi Degli ultimi Prestito Sottoscritto Che genera Dai 25 ai 35 Milioni Di euro Annui Soltanto di interesse Sui soldi Richiesti Ovviamente lui dice Questi sono soldi Che poi vengono detratti Da quei soldi Che poi l'Inter Potrebbe investire Sul carciomercato Un fattore Però Accomuna Le due proprietà Entrambe Aspettano L'ufficialità Dello stadio E sono Tutte e due Aspettano questa ufficialità Un conto È vendere Uno stabilimento Nuovo di pacco Di pacca Invece un altro È vendere Uno stabilimento Storico Insomma Praticamente Qua spiega Semplicemente Che il Sia Elliot Che Suning Aspettano la conclusione Cioè quindi L'effettivo inizio Dei lavori Per lo stadio Perché se tu vendi Una proprietà Vendi una società Con già uno stadio In costruzione Ovviamente La puoi vendere Ad una cifra Diversa Rispetto A quella che la venderesti Se non è ancora iniziato Ultima cosa Che volevo dire Riguardo a questa Parte molto interessante È Non sarebbe stato Più profittevole Per Elliot Rinnovare i contratti Quello che vi dicevo prima Di alcuni giocatori In scadenza Per poi rivenderli Immediatamente E lui risponde Galliani Aveva fatto Così Con Tiago Silva Con Donnarumma Credo ci sia stato Un errore Sono arrivati Troppo tardi Alla proposta Di rinnovo Sarebbe stata Una plusvalenza Sicura E molto Molto corposa Elliot comunque Dà delle direttive Da seguire Sta poi I vari dirigenti Decidere Come procedere Nello specifico E qua ovviamente Mondellini Dice quello che poi sappiamo 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 un po' tutti Basta Direi che questa qua La parte Quella fondamentale Ovviamente Questa parte Del video Ragazzi Non era Né per giustificare Né niente Chi Chi mi segue Lo sa Era semplicemente Per informare Nel modo corretto Informare In modo intelligente Quelle Quelle che sono Dei dati di fatto Incommentabili Nel senso No scusate Perché si può dire Sono dei dati Che non si Incontrovertibili Ecco non mi veniva La parola corretta Cioè sono dei dati Incontrovertibili Cioè quello Quello che ha detto Mondellini È un dato di fatto Il Milan incassa così Può spendere così L'Inter incassa così Ma può spendere così Anche se ha chiesto Prestiti per x cifra E paga 30-35 milioni di euro A bilancio Ripeto Io sono qua A tifare Per gli scudetti Per le Champions League Tutto questo È semplicemente Una mia malformazione Lavorativa Che a me piacciono I numeri Mi piace capire Cosa succede Dietro le squadre Il calcio E quando guardo Questi articoli Vedo questi articoli Mi piace condividerli Con voi Perché so che sono cose Che non a tutti Non a tutti Capisco che questa ultima Parte di video Non è per tutti È una parte di video Per persone intelligenti Se volete sentire Chi vi dice Che oggi il Milan Va a comprare Mbappé Adesso a 4 ore Dalla chiusura Del calciomercato Sapete dove andare Se invece vi piace Andate da altre parti A sentire chi vi racconta Le favole Se invece volete sapere Le cose come stanno Dal mio punto di vista Io sono qua Per dirvi quella Che perlomeno È la mia verità La mia semplice verità Soggettiva E portarvi Dei dati effettivi Ragazzi Bene Vi saluto a tutti Come sempre è stato un piacere Buon lunedì a tutti Forza Milan E come sempre Vada via il clinter Ciao Ciao